O io non sono adatto al mondo del calcio, o il mondo del calcio non è adatto a me, quindi da questa cosa ci sono anche delle riflessioni personali. L'insoddisfazione di Michele Gubitosa è corsa così sulle onde a modulazione di frequenza di Radio Punto Nuovo, dal calciomercato agli investimenti, con tanto ristoccata l'amministratore unico Walter Taccone, con quel mi dissocio se per contenere i costi intendesse in sede di campagna acquisti. Quindi, semplice momento di discordia o crisi per la difesa delle gerarchie societarie, il tempo farà chiarezza. In casa Avellino non smette però di risuonare l'eco delle parole pronunciate dal presidente onorario, un clima di attrito che stride con l'entusiasmo con cui questa mattina la squadra ha preso parte al terzo appuntamento con un giorno per la nostra città, ripulendo Piazza Kennedy in aderenza con il tema educazione civica e decoro urbano, e anche con quello del neoacquisto Mattias Solerio, che ieri in conferenza stampa ha esternato le sue prime sensazioni da calciatore De Bianco Verdi. Sono molto emozionato, sono onorato di far parte di questa squadra, di questa società, con questa tifoseria meravigliosa darò tutto per questa squadra. Se lunedì al provinciale di Erice è in posticipo contro il Trapani, l'ex Gene Erminio sarà subito titolare, lo si scoprirà presto, magari lo si intuirà questo pomeriggio, nel corso della seduta di allenamento a porte aperte al Partenio Lombardi, in attesa di ritrovarsi tutti sulla stessa lunghezza d'onda.